Entusiasti, motivati, preparati, partecipativi, così hanno risposto i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Jovine di Campobasso alla lezione di giornalismo televisivo che si è svolta nei nostri studi con il direttore di Telemolise Manuela Petescia. Esperti della materia grazie ai corsi di scrittura giornalistica svolti con la docente di lettere Sabrina Rauso nell'ambito di un progetto finanziato sia con i fondi PON che con le risorse autonome dell'Istituto stesso, gli alunni della quinta primaria e della prima media hanno appreso, divertendosi, le differenze tra il giornalismo di carta stampata e quello televisivo, che prevede abilità così particolari, quello televisivo, da renderlo un mestiere molto diverso dove forse l'unica competenza in comune è la conoscenza superlativa della lingua italiana. Con il progetto scolastico infatti, grazie alla guida sapiente di Sabrina Rauso, che oltre a essere docente della Jovine è anche giornalista e grazie anche alle competenze grafiche digitali di Francesca Armanetti, i ragazzi hanno prodotto questo pregevole giornale scolastico, Jovine News, che va in stampa da ben otto anni, un gioiello della scuola. Ma all'arte della scrittura, il giornalismo televisivo aggiunge per prima cosa la necessità della sintesi, non potendo durare un filmato oltre i due o i tre minuti. E poi c'è l'educazione alla voce, la sua intonazione, la dizione, la tecnica dell'intervista, la scelta delle immagini, il montaggio. Insomma, un prodotto diverso che però agli alunni è piaciuto molto, non perdendo l'attenzione nemmeno per un secondo. Ci troviamo negli studi di Telemolise per una lezione di giornalismo. Vediamo com'è andata. Ti è piaciuta questa esperienza a Telemolise? È un'esperienza che sicuramente rifarei, è un'esperienza molto bella. Per me è stata un'esperienza molto bella e la vorrei rifare almeno una volta nella vita. Farai un giorno la giornalista? In realtà non lo so, ci devo un po' pensare, però perché ho altri programmi. Posso fare il giornalista? È una cosa che mi piace. Sicuramente vorrei provare perché è un lavoro che mi affascina sin da quando ero piccolo. Mi piacerebbe molto farla, però avrei anche altri progetti in mente come lavoro. Oggi abbiamo assistito a una lezione di giornalismo. Mi è piaciuta molto questa lezione. Ti piacerebbe lavorare in televisione? Mi piacerebbe lavorare in televisione, ma ci devo riflettere. È stata interessante questa lezione? Sinceramente penso che sia andata molto bene dal fatto che mi è piaciuto molto. È molto interessante il fatto che c'è molta differenza tra la carta stampata e la televisione, il giornalismo televisivo. È stato molto interessante sapere come si produce entrambe le cose, soprattutto la televisione.